allora buonasera massimo un amico di città nuove o comunque se non altro per quanto riguarda gli obiettivi che ci poniamo che sono quelli di cercare la verità di mettere a disposizione della maggior parte della gente non ha tanto tempo massimo di stare in compagnia con noi presissimo da tantissimi impegni e quindi partiamo subito facendoti qualche domanda e la prima che vorrei farti è legata sostanzialmente al grosso problema della digitalizzazione che investe moltissime persone e che nella maggior parte dei casi viene vista addirittura come un vantaggio e invece nasconde un sacco di insidie tu cosa potresti dirci in merito a questo argomento hai detto già la sintesi l'hai già detta tu e il giochino di offrire certe novità come un vantaggio meraviglioso e nascondono invece purtroppo l'insidia e la trappola la nuova frontiera che noi andiamo sulla quale andiamo a combattere sarà quella del digital wallet cioè del portafoglio digitale qualcuno ha pensato furbescamente che sarebbe molto bello se tutti i cittadini del mondo occidentale questa gente pazzerellona che ama addirittura pensare con la sua testa se fossero tutti controllabili attraverso solamente il loro telefonino per esempio cerchiamo di convincerli a fargli mettere dentro tutto quello che hanno cioè mettono dentro il passaporto la carta d'identità la scheda sanitaria il codice fiscale l'accesso alla banca eccetera eccetera glielo vendiamo come una meravigliosa giocattolo e dopo di che però li controlliamo noi perché nel momento in cui tu per esempio non paghi una multa scopri che non puoi più accedere al tuo conto in banca dal telefonino oppure nel momento in cui magari hai fatto un post contro il governo scopri che hai delle limitazioni non capisci perché e non puoi più accedere al conto bancario queste qui sono sono i trucchi la fregatura diciamo la fregatura del mondo occidentale quindi nel mondo cosiddetto libero è che mentre nelle dittature tu sei uno schiavo e basta se lo dicono in faccia taci obbedisci e non rompere le scatole nel mondo occidentale dove noi dovremmo avere la cosiddetta democrazia non si può allora bisogna convincere l'asino a legarsi lui al palo da solo e quindi gli si vendono tutti gli zuccherini e gli fanno vedere tutte le meraviglie del portafoglio digitale di qui e di là anche il 5g è la stessa cosa erano già partiti due anni fa mi ricordo con quella campagna pubblicitaria per 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 cantare per l'elodio del 5g c'era questo medico che stava al matrimonio della figlia su una su un'isoletta deserta su una chiesetta bellissima c'era una montagna e a un certo punto gli arrivano a telefonata c'è un paziente che sta morendo e lui grazie al 5g fa praticamente l'operazione chirurgica in diretta da lontano con suo telefonino ecco esatto quella lì è proprio la l'indoratura cioè chi se ne frega abbiate pazienza parte io preferirei essere operato da uno che in camera operatoria e non da uno che sta al matrimonio della figlia con lo champagne no e bignè in mano a parte quello ma comunque sia voglio dire non serve quella cosa lì però ti ti vendono appunto la 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 parte meravigliosa e purtroppo molta gente c'è a bocca soprattutto i giovani se io temo purtroppo che col portafoglio digitale vedremo le stesse scene che vedevamo chi c'era negli anni 80 quando c'erano i primi che avevano telefonino e mi ricordo al bar che un giorno è entrato uno e maria tutto bene ci vediamo dopo arrivo a casa fra poco e ciao bella ciao ciao solo per far vedere che ce l'aveva perché maria sapeva benissimo che lui tornava e questo meccanismo me lo vedo adesso però il primo che avrà il portafoglio digitale che andrà pure in giro a fare il figo dirà va guardate che bello c'ho qua tutto il passaporto e dopo di che gli sfili da dietro la sim non gliela rinnovi con una scusa qualunque e quello lì non potrà fare più niente questo è un po il trappolone che ci aspetta però che tutti insieme riusciremo a combattere e rendere abbastanza gente cosciente del rischio che corrono da evitare di cadere in questa trappola ma io credo credo di poter dire che stiamo vedendo un certo un certo movimento anche per esempio qui ti dirò in emilia il 22 comincerà ad esserci un'agitazione piuttosto importante degli agricoltori che hanno preso coscienza di quello che è il problema che che c'è insomma a livello europeo con una commissione che non fa niente per quello che è l'interesse dei cittadini ma segue quella che è un'agenda che conosciamo molto bene e tra l'altro volevo chiederti visto che in questi giorni si è svolto si sta svolgendo l'incontro di davoli hai qualche indiscrezione qualche notizia che noi tu che tu che magari frequenti io frequento il mio palettiere la mia farmacista e il mio postino l'ufficio postale con queste sono le mie frequentazioni il livello massimo di frequentazioni sono queste per me da parte di scherzi secondo me davos è una grande è un grande teatro cioè questo palcoscenico enorme dove c'è questo bavoso schwab che con questo accento incurabile tedesco continua a far finta di parlare inglese e invita tutti i potenti e i potenti o i semi potenti in realtà i semi potenti che fanno passarello lì davanti eccetera eccetera secondo me davos non è veramente il luogo come si dice dove vengono decise le sorti del mondo non te lo farebbero vedere così in modo così eclatante davos è il luogo in cui vengono comunicate agli esecutori quelle che devono essere le sorti del mondo cioè le sorti del mondo vengono decise in altri posti i roshield non hanno bisogno di andare a davos per spiegare ai vari capi di stato cosa devono fare e roshield mandano il loro emissario il quale durante i brindisini a davos incontra perché ne so il ministro francese tal dei tali già ministro bene mi raccomando è quella riforma che abbiamo parlato alla volta scorsa importante ci si non si preoccupi la faremo al più presto mi saluti il capo ecco poi va dall'altro il generale delle isole ticatuca diciamo generale avete lì un pochino di di pressione un po di rivolto un po troppo forte forse è meglio usare una mano pesante per 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 calmarle questa gente prima che diventi troppo ci si non ci preoccupi ci pensiamo noi mi saluti il capo anche lì eccetera eccetera ecco secondo me davos è questo cioè è un luogo dove mentre c'è questa sceneggiata del teatrino con i potenti in realtà quelli che vengono invitati vanno lì a prendere le istruzioni il che non cambia il fatto che il mondo sia governato da quei 10 15 gruppi di persone ma non sono lì ecco non sono lì fisico non sono quelli che vedi sullo schermo certo sì tra l'altro circolava qualche giorno fa una una sorta di comunicato nella quale si dilantava la la probabile presenza di una di una nuova pandemia venti volte più pericolosa la malattia x ed esatto vedi anche anche tutto questo tutto questo giochino di mantenere la gente nella paura fa parte della fa parte della regia e credo però ti dirò che a livello di città nuove ci stiamo rendendo conto di questa cosa che lavorando invece sul positivo cioè semplicemente noi non accettiamo di scendere in campo a giocare la partita con voi per due motivi primo perché non la condividiamo secondo perché le forze sono talmente diseguali che perderemo ma il fatto di dire per conto nostro noi ci produciamo dei nostri cereali ci produciamo il nostro latte in maniera assolutamente non assolutamente fuori dal sistema non è vero però comunque con la possibilità di fare un interscambio tra persone che ormai sta diventando piuttosto importante considera che all'interno della nostra associazione e nei 50 gruppi che abbiamo in giro per l'italia siamo circa circa 150 mila non sono tantissimi però come non essere interessante anche perché noi non facciamo la guerra a nessuno e quindi quando abbiamo qualcuno che sposa i nostri ideali collaboriamo con loro senza chiedere di aderire senza chiedere di gemellarsi in maniera solidale rinunciando alla propria identità perché in questi tre anni l'identità è stata molto importante nel senso molti sono nati hanno costituito dei gruppi ci tengono a chiamarsi in un certo modo e va benissimo l'importante è avere lo stesso obiettivo protendere a quella che è l'aumento della consapevolezza e l'aumento delle frequenze uscire dalla paura e quindi sì è una cosa è una cosa che noi sulla quale noi stiamo lavorando parecchio e invece cosa potresti dirci di quello che è chiamiamolo così la crisi del blocco occidentale quindi usa unione europea nato nei confronti di quello che è la serie di fronti che stanno provando da aprire sostanzialmente secondo me contro il brics che magari è l'altra faccia della piramide ma che comunque sta dando forse del filo da torcere no sì diciamo che è infatti diciamo che i brics non è che sono la soluzione angelica al diavolo dell'occidente questa è una visione molto molto e romantica e manichea del bene e del male tutto non esiste al mondo il mondo gira da una parte sola non è che gira da due gira da una parte sola e è quella lì certamente è una lotta di potere fra gruppi molto forti uno appunto il gruppo ancorato al dollaro e all'occidente agli stati uniti soprattutto l'altro è il gruppo che cerca di disancorarsi dal dollaro ma non appunto per fare il bene dell'umanità per creare per fare il bene proprio cioè per dover soffrire di meno dalla dipendenza che abbiamo che hanno in questo momento dagli americani i mercati globali ma già il fatto per esempio che facciano fatica i brics a trovare una moneta unica dimostra che non è affatto facile la soluzione comunque sia rispetto alla diciamo la caduta dell'occidente la caduta la fine della dell'unipolarismo chiamiamolo così secondo me va fatto tutto risalire al 24 febbraio 2022 cioè nel momento in cui gli stati uniti obbligano perché sono stati loro obbligare putina a invadere l'ucraina e lo sappiamo perché c'è tutta una storia dietro che mentana non vi racconterà mai ma che noi che noi abbiamo raccontato bene nel momento in cui gli stati uniti obbligano decidono quindi che l'ucraina farà da da capra spiatorio da cominciamo da scusa da agnello sacrificale dell'occidente per andare indebolire la russia la russia parte al contrattacco putti parte al contrattacco e accelera quel meccanismo che aveva appena accennato prima di togliere appunto gli equilibri dal dollaro e portarli anche dalla sua parte quindi dallo yen cinese dal rublo dalla moneta e dalla rupia indiana e nel sud africa soprattutto quindi quando tu senti per esempio stoltenberg lo stolto il capo della nato che dice ah 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 putin ha ottenuto l'eterogenesi dei fini ti dice cioè lui credeva di invadere l'ucraina e prendersi in tre giorni invece cosa ha ottenuto che adesso svezia e finlandia entrano nella nato quindi siamo ancora più forti quindi secondo lo stolto appunto l'eterogenesi dei fini che che putti perché stupido non l'aveva calcolata è andata a vantaggio della nato dell'occidente in realtà l'eterogenesi dei fini quella che gli è tornata nel di dietro a a stolto un boomer anche esatto è stato proprio quella che putin ha dato l'accelerazione alla nascita di un sistema economico alternativo ora qui stiamo parlando di anni non di mesi cioè nei prossimi 10 15 20 anni vedremo se veramente siamo di fronte alla fine dell'impero americano dell'impero del dollaro di solito bisogna anche stare attenti perché quando gli imperi rischiano di di tramontare troppo rapidamente non accettano la propria fine e danno il famoso colpo di coda cioè muoia sansone con tutti i filistei quindi secondo me la bestia all'angolo diventa più cattiva esatto la bestia all'angolo bisogna sempre lasciare un attimino di respiro se no dopo due e dura per tutti e rischiamo veramente a quel punto il colpo di coda definitivo quindi secondo me stanno molto attenti a mandare avanti questa cosa sì con la necessaria premura per per fare in modo che succeda ma neanche poi da correre dall'oggi al domani perché se appunto togli il tappeto sotto agli altri troppo di corsa è un rischio per tutti e quindi la crisi la crisi in israele si inserisce in questo contesto invece lì secondo tazza dietro l'iran no né uno né l'altro secondo me cioè o meglio può esserci dietro l'iran nella scelta di far scattare l'attacco del 7 ottobre per essi per far saltare gli accordi di come li chiamavano gli accordi mi ricordo più di c'era un nome gli accordi che saranno per fare con i sauditi israele e gli accordi di abramo ma il quello che sta succedendo adesso in palestina c'è a gaza è semplicemente l'ultimo alzi scusa purtroppo temo il penultimo capitolo di una storia che dura da cento anni che si chiama progetto sionista cioè progetto sionista nasce cento anni fa ed è dagli anni venti del secolo scorso da cento anni fa che sistematicamente inevitabilmente metto metodicamente e i sionisti conquistano sempre più terra in palestina che fosse che si chiamasse prima palestina adesso israele uguale e da questa cacciano progressivamente vogliono cacciare progressivamente palestinesi cioè nell'idea sionista originale già originale non c'è l'idea di andare a colonizzare un paese tutte le colonie del mondo come funzionano che tu conquisti un paese lo colonizzi e sfrutti i suoi abitanti li tieni sotto il tuo il tuo controllo li sfrutti e magari lasci vivere esatto questo è l'unica operazione colonialista dove si prevede la rimozione di quelli che c'erano lì prima la sostituzione etnica famosa questo è il progetto sionista è dichiarato apertamente fin dall'inizio cioè non è una cosa che dobbiamo capire noi fra le righe te lo dicono dal fondatore stesso ersu il diciamo il fondatore del movimento sionista già lui diceva dovremmo trovare i modi trovare dei modi per cui i palestinesi siano così scontenti di vivere dove stanno vivendo che se ne vadano quindi l'idea di avere quella terra tutto per loro è dall'inizio e non questo è la cosa che mi ha più addirittura non solo il silenzio adesso siamo nel silenzio che c'è stata la fase contro i palestinesi all'inizio cioè c'è stata proprio quella ondata di odio anti islamico generalizzato soprattutto l'ho visto nei giornalisti di destra capezzone salusti bel pietro tutti questi che devono avere una tale odio intrinse contro come così contro l'islamico in generale che praticamente gli sentivi fra le righe che man mano che israele bombardava questi hanno fatto bene non avevano coraggio di dirlo forte hanno ragione basta questi islamici come se fossero islamici tutta l'erba un fascio adesso che ovviamente israeli astra esagerato non si può più continuare a dire stanno facendo bene per quest'anno zitti e questo è comunque un sempre un aspetto negativo della storia cioè abbiamo degli abbiamo ma non solo noi tutti i governi tutti i governi occidentali si sono allineati dietro alla barzelletta che israele ha il diritto di difendersi e quindi qualunque cosa facciano per loro va bene tra l'altro c'è questa cosa strana che gli unici che hanno il diritto di difendersi sono gli israeliani a quanto pare tra l'altro al di là del fatto che credo ci sia una media di intorno a 250 morti al giorno che non stanno a guardare se sono vecchi bambini e donne ma questa cosa nella quale appunto si diceva è giusto cioè questo questo fine giustifica il mezzo quindi possiamo tutto sommato bombardare i civili perché loro si comportano così che è una è un'introduzione nuova in quello che è diciamo così il codice di guerra che è assurdo cioè apre una porta che è veramente una voragine nel vuoto dell'umanità non solo è una cosa nuova ma è prevista ed è proibita si chiama collective punishment cioè la punizione collettiva nella convenzione di ginevra in tanti altri accordi internazionali è proibita non puoi prendertela con un popolo intero perché il tizio caio ti ha fatto così troppo comodo anche perché che tizio caio ti abbia tirato un razzo non so io se l'hai mandato tu quello lì a tirarti il razzo quindi può anche darsi che il 7 ottobre magari lo volessero proprio gli israeliani volessero sacrificare i loro i loro 1200 cittadini perché gli serviva questa onta interminabile per poter invadere finalmente Gaza e riprendersela quindi non si può a fare il concetto di loro e loro ti dicono sai quando quando tu c'è questa quando qualcuno solleva questo punto il pro israele ti dice e sì ma allora tu come faresti non può stare come faresti se se sei capace vai dentro e prendi quelli di Hamas se sennò stai lì e e mangi la palta non è che siccome non sei capace a prendere di Hamas bombardi tutto io ti pensa se quando c'è la letta in spagna per esempio che faceva gli attentati o la mafia in meridione Massimo o la mafia in meridione ecco bombarda la Sicilia siccome c'è la mafia bombardiamo la Sicilia esatto oppure l'ETA quando c'era l'ETA non è che la Madrid la Spagna ha bombardato Bilbao perché loro i terroristi dell'ETA si nascondevano lì è chiaro che si nascondevano lì ma non è che puoi bombardare la città con quella scusa oppure quelli dell'Ira in Belfast in Irlanda stessa storia non puoi cioè non esiste Israele può questo può farlo quindi questo ti dà la misura del controllo del potere che ha Israele sugli Stati Uniti che a loro volta hanno potere su tutti noi questa purtroppo è la triste verità sì Massimo ti faccio un'altra domanda che mi è arrivata tra l'altro sapendo che sono qui con te e mi chiedono c'è questa convergenza strana da parte delle tre religioni più grandi del pianeta e vale a dire Islam Israele appunto ebrei e cristiani di questa concezione dell'arrivo alla fine dei tempi del vivere in questo momento gli ultimi tempi tu credi che ci sia effettivamente un disegno escatologico e quindi la possibilità anche a livello profettico che riscontriamo per esempio in un papa che non è papa in un laicismo che come quello clericale ha una legge ma non la rispetta e quindi stai mettendo diverse cose al fuoco cioè una cosa è la visione escatologica della vita una cosa è il papa è la questione di Bergoglio e di Ratzinger non credo che si possa unificare in una risposta unica sulla questione escatologica cosa vuoi che ti dica? non è che non faccio il profeta di mestiere non ho antenati profeti io ho una visione della vita in senso lato che non è escatologica ma è circolare quindi non condivido l'idea non lo so se lui non ho mai capito bene se lui fosse comunque sia diciamo io condivido di più la visione orientale del tempo circolare per cui questa idea che tutto avviene una volta sola tutto finisce poi c'è il giudizio universale la trovo un po' scolastica diciamo però siamo lì a livello di interpretazione rispetto alla storia dei due papi guarda non mi fare la domanda perché è proprio una cosa hanno cercato di tirarmi dentro in tutti i modi no infatti no no ecco cioè ti dico semplicemente una cosa io a me stanno sonoramente sulle scatole tutti i preti eccetto il parroco di campagna diciamo il prete vero quello che da voi era Don Camillo nella vostra cultura a parte quello che va benissimo ma i preti diciamo dai vescovi le altre gerarchie mi stanno tutti veramente molto qua che siano Bergoglio o che siano Ratzinger perché le colpe che io storiche che io attribuisco alla chiesa quindi ai vertici della chiesa la chiesa politica non la chiesa religiosa nel corso dei secoli sono innumerevoli infinite da raccontare quindi a me che uno venga a dirmi ma tu preferisci Bergoglio o Ratzinger proprio guarda il paese tutte e due perché proprio non mi interessa hanno cercato di tirarmi dentro questa discussione Cionce addirittura mi ha fatto un video nel quale si rivolge a me dicendo ma Zucco lei deve insomma le spiego io come stanno le cose voleva essere intervistato immagino non lo so ma gli ho detto ragazzi proprio le vostre beghe tenetevele gli uomini con la gonna che dicono di parlare in nome di Dio non mi sono mai stati simpatici secondo me il rapporto col divino è personale è individuale è interiore non è esteriore e nessuno deve venirmi a dire cosa fare cosa non fare e quale autorità devo rispettare le autorità ecclesiastiche per me sono zero assolutamente quindi sono abbastanza d'accordo con te e credo che la vera fine del cattolicesimo è iniziata la vera fine è iniziata quando si è formulata per come la conosciamo oggi cioè con il consiglio di Nicea nel se non ricordo male 312 da Costantino insomma lì si è dato una struttura politica alla Chiesa e da quel momento lì si è curata molto di più degli esseri umani che non delle loro anime praticamente stai dicendo che la vera Chiesa è durata 300 anni la vera Chiesa forse è durata forse meno di 300 anni certo sì 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 ma io non andrei non andrei così indietro ma comunque diciamo dal medioevo in poi vedo che ormai durante quel consiglio lì quel consiglio lì sono stati totalmente cancellati una serie non dico infinita ma abbastanza considerevole di Vangeli che oggi chiamiamo apocrite o apocrite nei quali vengono dette delle verità che sono state scelte di non inserire in un canone ma un canone deciso dagli uomini non certo soprattutto hanno cancellato tutto quello che discordava dal ma i Vangeli Gnostici mi apre un capitolo che non mi aspettavo io li ho letti una decina di anni fa 15 anni fa quelli trovati a Nag Hammadi sono meravigliosi anche perché capisci che sono veri che non sono interpolati cioè di colpo quando tu leggi il Vangelo i canonici o i sinottici soprattutto i tre sinottici senti che c'è la manipolazione l'intervento di qualcuno che ti dà le spiegazioni per far quadrare quello che non quadra cioè le famose interpolate tra l'altro le trasformazioni dei quattro canonici avvengono costantemente anche gli ultimi sono stati fatti negli ultimi anni quindi ok mentre se leggi un Vangelo Apocrifo tra l'altro spieghiamo una cosa importante per chi fa queste discussioni si usa spesso il termine apocrifo per dire falso ah quello è un apocrifo ti dicono ma anche gente colta e anche Mentana l'ha usato un giorno questo termine per dirti quello è un apocrifo è un falso apocrifo non vuol dire falso apocrifo viene da apocripto dal greco apocriptomai che vuol dire nascondere no no nascondere nascondere la cripta è il luogo nascosto apocripto vuol dire sotto nascosto sotto cioè i Vangeli che chiamiamo apocrifi sono quelli che venivano nascosti dopo il consiglio di Nicea perché appunto erano diventati illegali e siccome la gente non voleva bruciarli li teneva nascosti ecco perché li chiamano apocrifi ma apocrifi non vuol dire falso tant'è vero che il Vangelo di Tommaso per esempio che è il più bello di tutto secondo me è uscito da un otre di Nagamadine a 47 intatto come ce l'hanno messo nel 200 d.C. in copto scritto in copto quindi tu sai in quel caso che stai leggendo un originale non manipolato e lì senti proprio il sapore di una verità che nei canonici non senti a me piace moltissimo è una lettura che consiglio a tutti anche chi non non è particolarmente interessato alle storie della chiesa perché sono dei concetti veramente ogni si sono 112 115 frasi non è che lui andò in Galilea pescò i pesci disse a sua sorella no sono concetti i discepoli gli richiesero per dire ma ma dove andremo a finire dopo morti e lui rispose perché vi preoccupate di dove andrete a finire dopo morti quando non sapete nemmeno da dove venite punto e ti lascia lì e qui ci ritrovi un po' alla ciclicità del tempo volendo volendo c'è tutto uno studio storico che sostiene che il vero Gesù insegnasse la ciclicità del tempo cioè il tempo che ritorna non il tempo finito però vabbè ragazzi qui stiamo andando in territorio è vero tornando con i piedi per terra tornando con i piedi per terra a 30 all'ora ai 30 all'ora esatto allora non di più dicevo tornando appunto con i piedi per terra ai 30 all'ora e qui in Emilia Romagna ti stavo dicendo hai fiducia di questo movimento degli agricoltori che sta partendo o speranza fiducia o speranza speranza sono due cose ben diverse la speranza la speranza è l'ultima a morire la fiducia io non ho mai visto gli italiani cioè li vedo lottare quando è qualcosa che riguarda la loro categoria specifica allora sì i taxisti gli fai qualcosa ai taxisti gli metti Uber questi si arrabbiano e bloccano l'Italia come taxisti ma non come italiani quelli che facevano il pecorino in Sardegna due anni fa stessa roba non so cosa gli avevano fatto questi versavano il pecorino e l'hanno visto tutti hanno dovuto cambiargli le regole cioè lo shop diciamo la protesta di categoria c'è siamo bravissimi io ho ancora visto una protesta di popolo come popolo italiano contro certi poteri quello mi piacerebbe vedere ecco perché appunto la speranza è l'ultima a morire a noi c'è stato chiesto di sostenere questa protesta e gli abbiamo detto che la condizione sine qua non è quella di allargarla a tutte le categorie di cittadini è certo se no è chiaro che se tu hai un interesse tuo personale che il gasolio agricolo vuoi che scenda di 50 centesimi è chiaro che tu hai quell'interesse lì ma cerca di vedere le cose un pochino più ampie all'interno di hanno giocato su questa cosa negli ultimi tre anni hanno attaccato primi sanitari poi hanno attaccato il personale scolastico poi i dipendenti poi i ristoranti e le attività commerciali loro hanno proprio fatto questo tipo di cosa perché? perché se attacco solamente gli insegnanti gli altri se ne fottono è certo i ristoranti e le pizzerie gli altri se ne fregano e invece dobbiamo uscire da questo giochino qui e cioè se ti ricordi negli anni 70 quando c'erano gli scioperi generali c'erano gli scioperi che investivano tutte le categorie si andava in piazza ma allora allora c'erano ancora i sindacati ancora i sindacati esatto oggi c'è Landini qui capisci? capisci la dire non ho bisogno di spiegarlo a un romagnolo che la differenza qual è i sindacati di oggi capisci? Landini è quello che si fa mettere la mano la pacca sulle spalle da Draghi quando lo incontra si è il bravo bravo ragazzo capisci? cioè se se Draghi ti dà una pacca sulla spalla vuol dire che hai sbagliato tutto non è possibile c'è qualcosa che non funziona lì capisci? invece lui è tutto bello contento con il suo sorrisetto capisci? bene Massimo io ti ringrazio di essere stato in compagnia con noi se hai qualcosa da aggiungere ti ascoltiamo molto volentieri ma so che hai tempi sempre molto stretti e quindi eventualmente però quando volete quando volete ci sono anche se vuoi fare una puntata non so se vuoi fare una puntata che raccogli prima delle domande del vostro pubblico e le metti in ordine tutte possiamo fare una puntata che io rispondo alle loro domande a me è una cosa che mi piace molto anche perché arrivano le domande più spiazzanti che non ti aspetti mai quindi per me è divertente ok dai proviamo a organizzarla tipo fine di febbraio inizio marzo quando vuoi Massimo saluti a tutti i ragazzi e andate piano mi raccomando assolutamente non supereremo i 30 ciao grazie ciao Massimo grazie ciao ciao ciao